Io vorrei non rinunciare mai al palco, io non puoi rinunciare al palcoscenico, comunque io credo di poter dire che lì viene fuori una parte di me che altrimenti non viene fuori, che è sfrontata e migliorare le emozioni, io sono un po' più riservato rispetto alle emozioni in generale, invece lì la urlo, lì divento spuderato e quindi mi penserebbe, siccome mi fa bene farlo, mi penserebbe a tutti quelli che ti sentono, fa bene a tutti quelli che ti sentono, grande figlio di... Grazie per la visione